buongiorno leggendo il vangelo di oggi dal capitolo 4 di luca versetti 38 44 viene da stupirci e da interrogarci commossi su come deve essersi sentita la socera di simone guarita da gesù in casa sua da una febbre altissima come può essersi sentita questa donna che vede il maestro che già ha una fama notevole che appena predicato e annunciato la venuta del regno nella sinagoga che ha cacciato un demonio ecco come deve essersi sentita lei nella sua debolezza e fragilità toccata e sanata dal signore certamente un'esperienza indimenticabile che forse tutti vorremmo vivere essere toccati dalla mano di gesù ed essere liberati dal nostro male quello che però sorprende è che nel vangelo di oggi in realtà lo sguardo si sposta costantemente dal prodigio a colui che lo compie Gesù guarisce è vero la socera di simone tante altre persone Gesù predica parla con voce autorevole e quindi colpisce il cuore degli ascoltatori ma lo sguardo va costantemente alla fonte non al gesto non al miracolo non alla parola ma colui che lo compie e che la pronuncia il vangelo ci porta a concentrarci su Gesù e a desiderare di seguirlo di servirlo proprio come fa appunto la suocera di simone appena guarita Gesù che è colui che sta nell'intimità con il padre e che in quella stessa intimità desidera introdurci perché la guarigione più vera non è quella delle malattie del corpo bensì dalla malattia dell'egoismo della solitudine profonda ispirata dalla presunzione di essere soli e di fare da soli e allora il nostro sguardo oggi si poggia su Gesù lasciandoci attirare a lui e al punto da trascurare perfino distrazioni malanni pensieri preoccupazioni che ci attraversano la mente al cuore Gesù è più grande di tutto questo e la libertà maggiore è proprio quella di poter essere in relazione con lui così come siamo qui adesso oggi tutto il giorno per avere accesso alla sua stessa intimità con il padre buona giornata con gli occhi puntati su Gesù